L'ha detto anche lei in conferenza un nome nuovo per la politica riminese, un ruolo importante, quello di candidata a vice sindaca per Rimini, che affronta in che modo? Che affronto con coraggio e determinazione, proprio perché in questi mesi abbiamo fatto un lavoro intorno alle politiche culturali per questa città, intorno alle politiche di genere con il gruppo Io sto con Emma e con articolo 27, quindi in un'ottica assolutamente di servizio, perché questa richiesta è giunta totalmente inaspettata, questo lo devo chiarire, è stata una sorpresa anche per me, una richiesta che mi onora profondamente ma che mi spaventa anche, quindi avrò bisogno del sostegno di tante persone, ma so che insieme possiamo affrontare questa nuova sfida di cambiamento, perché alle spalle c'è un lavoro già fatto, c'è un gruppo che si arricchisce di giorno in giorno, ci sono tante persone provenienti dalla società civile che grazie a questi progetti, appunto articolo 27 Io sto con Emma, si sono avvicinati di nuovo alla politica, si sono avvicinati a questo progetto, un progetto che è stato appoggiato a sua volta da Emma Petitti, che ha creduto in noi e che ha lavorato con noi, e adesso attraverso questa scelta, anche se vogliamo dolorosa, perché noi abbiamo lottato con convinzione per avere le primarie a Rimini, e riteniamo che in questo sia forse anche una sconfitta, però dal momento che poi Emma ha fatto questo coraggioso e devo dire generoso accordo con Jamil, insieme possiamo portare avanti questi nuovi progetti. Io, come dicevo, non provengo dalla politica, diciamo non ho tessere di partito, ma provengo dal mondo accademico, sono una docente universitaria, quindi l'attività che ho svolto in questi anni è legata comunque alla cultura, quindi questi per me saranno alcuni dei primi punti in agenda, la cultura, le politiche di genere, ma anche alcuni dei tanti punti che sono stati stilati insieme da Jamil e da Emma nel documento che è stato presentato ieri sera all'Assemblea del PD e che è stato oggi presentato in conferenza stampa e che i cittadini avranno modo di leggere ed esaminare.